Buonasera a tutti. Vi comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come Governo su un presupposto. Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. Io stesso lo sto sperimentando, per me. Ho la massima comprensione quindi da questo punto di vista per tutti gli italiani. Capisco le famiglie, i giovani che nel tempo libero sono soliti andare nei centri commerciali, frequentare i propri coetanei, riempire bar, ritrovarsi a gustare un aperitivo, un momento di socialità. Sono abitudini che ragionevolmente con il tempo, alla luce delle nostre raccomandazioni, potranno essere modificate e anche adattate alle nuove esigenze. Ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. In particolare ai loro cari va tutta la vicinanza nostra del Governo e penso di poter interpretare di tutti gli italiani. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate, vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia e quando parlo dell'Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti. E' per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del Governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti, per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini, che vorrei ricordare è il nostro obiettivo primario, pur contemperando, cercando di contemperare fin quanto possibile anche altri interessi che meritano di essere tutelati. Ma se la salute dei cittadini, la salute pubblica è un bene che è messo a repentaglio, noi siamo costretti a scegliere e imporre dei sacrifici per quanto riguarda gli altri interessi, pur meritevoli di tutela. E' per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione Io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze. Comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Abbiamo e comprendiamo la voglia di socialità anche dei giovani. Abbiamo visto tutti episodi, fotografie anche dove l'amo vita, c'è molto divertimento. Si consumano anche delle bevande al di fuori dei locali e dei bar. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio. Credetemi, non è facile. Sono pienamente consapevole della responsabilità e anche della gravità nell'adottare queste misure per tutta la penisola. Ma sono costretto a intervenire in modo ancora più deciso per proteggere tutti noi e soprattutto le persone più fragili e più vulnerabili. Viviamo in un sistema in cui noi garantiamo la sanità e il diritto alle cure e alla salute a tutti. È un fondamento, un pilastro e direi la caratteristica del nostro sistema di civiltà. Non possiamo quindi permetterci su questo di abbassare la guardia. Oggi è il momento della responsabilità. Noi tutti abbiamo una grande responsabilità. Voi con me, voi cittadini tutti con me. Penso anche a tutti i medici, gli infermieri che sono in trincea in queste settimane, che lavorano senza sosta, stanno facendo di tutto, con turni molto impegnativi per assistere e curare le persone contagiate dal coronavirus. Oggi nel prendere queste misure dobbiamo pensare anche a loro, che rischiano pensate con grande gesto di solidarietà la propria salute per curare la salute del prossimo. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro, dell'Italia, è nelle nostre mani. E queste mani devono essere mani responsabili. Oggi più che mai. Ognuno deve fare la propria parte. Ed è per questo quindi che da oggi varranno su tutto il territorio della penisola queste misure che noi abbiamo già predisposto per la parte settentrionale, come sapete, Lombardia più provincia, giusto qualche giorno fa. Abbiamo anche adottato in aggiunta un'altra misura per quanto riguarda le manifestazioni sportive. A questo punto, in questo contesto, non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni, le gare, le manifestazioni sportive, penso al campionato di calcio. Quindi dispiace dirlo, ma tutti, anche i tifosi, devono prenderne atto. E non consentiremo neppure che possano essere utilizzate le palestre per ovviamente lo svolgimento di attività sportive. A questo punto, se c'è qualche domanda, prego. Signor Boneri, News24. La decisione è molto difficile. Le volevo chiedere se queste norme entrano in vigore da questo momento e se c'è una data o essi ne die, se sono state concertate con le regioni, se ha avuto appunto un via libera dalle regioni, anche non quelle di prima linea delle ex zone rosse, e se di questo ne ha parlato anche con la Presidenza della Repubblica. Grazie. Allora, queste misure sono nel decreto di PCM, ormai un provvedimento che tutti conosciamo, visto che ne abbiamo parlato anche, abbiamo parlato del suo iter di formazione, che sto per firmare. andrà in gazzetta ufficiale stasera, entrano in vigore domattina. Per quanto riguarda l'iter di formazione è regolare, perché sempre su proposta del Ministro della Salute, sentiti gli altri ministri competenti, abbiamo sentito anche i Presidenti delle Regioni, in particolare oggi c'è stato poi alla Protezione Civile addirittura una videoconferenza con componenti del Governo che erano collegati appunto in videoconferenza, collegamento a distanza con i Presidenti delle varie regioni, tutti anche hanno condiviso l'estensione di un unico, diciamo così, regime di disciplina a tutta la penisola. In ogni caso ho sentito ancora poco fa il Presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini per avere garanzia in aggiunta alla videoconferenza che appunto mi potesse confermare che anche le Regioni per quanto di competenza esprimevano il loro applauso al provvedimento. Chiaramente ho informato anche il Presidente della Repubblica di questa iniziativa. Buonasera Presidente, Marco Billesci, fan page, anche io tre cose rapidissime. La prima, il meccanismo per gli spostamenti rimane, per le comprovate ragioni, rimane quello dell'autocertificazione che pure è stato criticato da alcune parti. Seconda cosa, si pensa, sono allo studio misure di limitazione o di blocco dei trasporti urbani o extra-regionali. Terza cosa, oggi è stata una giornata drammatica anche da un punto di vista economico per l'economia. Le chiedo se la cifra dei 7 miliardi e mezzo che il Governo mi ha messo sul piatto è superata, verrà aumentata e se verrà chiesto la sospensione delle regole europee. Grazie. Mi ha fatto tante domande. La prima riguarda se, per quanto riguarda gli spostamenti, rimangono confermate le giustificazioni. Esatto. Quindi, per quanto riguarda l'autocertificazione, certo, è una modalità che ormai accolta in via generale nel nostro ordinamento giuridico. Quindi è possibile, se richiesti di giustificare lo spostamento, autocertificare la ragione per cui ci si sta spostando. Ricordo, però, che le dichiarazioni rese dell'autocertificazione devono essere veritiere, perché se ci fosse una falsa, una dichiarazione tecnicamente non veridica, ci si espone a un ulteriore reato che si potrebbe aggiungere a quello già della violazione di uno spostamento non giustificato. In più, falsa autocertificazione. Quindi bisogna stare attenti. Per quanto riguarda i trasporti, no, non è previsto, non è all'ordine del giorno, una limitazione dei trasporti pubblici, nella misura in cui, chiaramente, siccome il sistema produttivo ha queste condizioni, noi cerchiamo assolutamente di garantire la continuità del sistema produttivo, dobbiamo anche consentire alle persone di poter andare a lavorare. Quindi con le dote cautela al momento non c'è nessuna misura. E la terza domanda riguarda lo scostamento del deficit. Noi stiamo predisponendo, come abbiamo detto, e abbiamo concordato in Europa una richiesta di scostamento per 7 miliardi e mezzo. Adesso stiamo ragionando, diciamo, ma non voglio anticipare nulla. Stiamo ragionando sulla possibilità di precostituirci una richiesta, ecco, lo dico anticipatamente, ma non è deciso ancora nulla, una richiesta un po' più elevata, il che non significa però utilizzare questa eventualità, questa possibilità subito. Però potrebbe essere una modalità, quello di chiedere uno scostamento, diciamo, maggiore. Ma su questo nulla ancora deciso. Prego, c'è una domanda. Posso fare una domanda senza microfono? Grazie, che penso che sia meglio. Ma io rispondo col microfono o no? Lei fa la domanda senza microfono. Il microfono è che non ci passiamo tutti quanti, quindi è corretto così. Ah, lo fa per... Chiaro, chiaro, prego. Allora, chiedo questo. Scusi, Presidente. Lei ha detto, casi di necessità sarebbero delle motivazioni, però casi di necessità è un po' molto generico. una domanda. E la seconda che però è collegata sulla durata, un po' più preciso, almeno nel prossimo tempo, fino al prossimo decreto, cioè fino a quando dura questa Italia, in generale, diciamo che sia la durata. Allora, guardi, per quanto riguarda la durata, do anche un'altra notizia anticipo. Siccome noi andiamo a estendere il regime di disciplina che è previsto per la Lombardia e le varie province collegate, a questo punto automaticamente portiamo la sospensione delle attività didattiche sia nelle scuole, sia nelle università, sino al 3 aprile. Quindi questo è un primo dato e questo serve per far chiarezza a tutte le persone. Su tutta la penisola, isole comprese, noi avremo quindi la sospensione delle attività didattiche prolungata sino al 3 aprile. Questo vale per le scuole di tutti gli ordini e grado e per l'università. Poi, ovviamente, per quanto riguarda il resto, noi ci manteremo sempre flessibili, siamo sempre pronti a intervenire, ma per adesso ci limitiamo alla durata già convenuta per quanto riguarda Lombardia e il resto delle province collegate. Presidente Fabrizio Fronani del Tg2. Vorrei sapere in vista del voto sullo scostamento di deficit che rapporto con l'opposizione. Mi sembra che siremmi tutti quanti verso una stessa parte in questo momento di emergenza del Paese. Ma questo è il mio auspicio senz'altro, di poter coinvolgere anche l'opposizione vista la gravità del momento, visto il fatto che stiamo introducendo delle misure sicuramente non ordinarie. Domani avremo un confronto con le opposizioni, le forze di opposizione per discutere misure economiche. Abbiamo avuto già due incontri con le forze di opposizione per quanto riguarda l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando, domani specificamente per le misure economiche. Da questo punto di vista mi sono premurato anche di informare adesso a ridosso di questa conferenza le opposizioni. Stamattina ho sentito il ministro Salvini, lo ha anche dichiarato lui, mi aveva cercato. C'è un contatto anche con le opposizioni perché in questo momento siamo tutti sulla stessa barca, quindi la responsabilità di queste misure è la nostra, di chi è la responsabilità di governo, ma è evidente che è giusto che le opposizioni siano coinvolte e possano comprendere e condividere diciamo le ragioni di queste misure. Salve Presidente, Michele Esposito dell'Ansa, una curiosità sugli effetti che questo nuovo DPCM può avere sui collegamenti tra l'Italia e gli altri paesi europei e si parla anche sui media della possibile nomina di un supercommissario. Secondo lei è una cosa praticabile oppure non ce n'è bisogno? Per quanto riguarda gli effetti con l'estero non cambia nulla, nel senso che gli spostamenti dei cittadini italiani, noi vogliamo gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre a quelle condizioni, fermo restando che continueremo a controllare gli ingressi d'Italia per cautelarci con le verifiche e i controlli che abbiamo già predisposto. Per quanto riguarda la seconda domanda mi chiedeva ma l'ho anche dichiarato in un'intervista che oggi è stata pubblicata stiamo senz'altro pensando visto che stiamo affrontando man mano che adesso stiamo andando avanti ci sono alcuni aspetti della macchina organizzativa che vogliamo potenziare io l'ho detto siamo disponibili a qualsiasi strumento a qualsiasi mezzo per raggiungere un obiettivo quindi sicuramente faremo un intervento voi lo chiamate un super commissario diciamo che nella macchina organizzativa ci stiamo confrontati con questa emergenza io stesso ho avvertito l'opportunità di avere un coordinamento soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'approvvigionamento dei macchinari delle attrezzature per l'assistenza sanitaria e quello potrebbe essere sicuramente un ruolo che potrebbe affiancare il coordinatore della protezione civile che ha compiti più complessi però siccome abbiamo visto che è strategico evitare sovraccarico negli ospedali perché poi andiamo in difficoltà per quanto riguarda le attrezzature di terapia intensiva subintensiva ci servono anche i dispositivi di protezione individuale ecco quello per esempio è un compito su cui sto riflettendo e proporrò senz'altro ai ministri una soluzione per rafforzare il coordinamento in questo settore perché in questo settore ovviamente le regioni hanno specifica competenza agli acquisti ma è chiaro che c'è necessità di un raccordo nazionale grazie a tutti ci auguriamo davvero che queste iniziative possano rientrare ovviamente siamo disponibili adesso con il ministro Bonafede stiamo lavorando per fornire anche tutti i dispositivi di protezione in modo da consentire anche lo svolgimento dei colloqui però è chiaro che non possiamo accettare quel che sta accadendo e cioè che ci siano addirittura delle fughe o dei tentativi di ribellione dove evidentemente vengono anche distrutti in alcuni carci sono stati compiuti degli atti abbastanza gravi quindi invitiamo davvero tutti a come dire a rientrare da queste iniziative a questi episodi che sono assolutamente inaccettabili ma lo stiamo valutando ovviamente tutti i mezzi che serviranno per contenere queste iniziative che non sono accettabili grazie 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 grazie